Nuove tensioni nella penisola coreana dopo che la Corea del Nord ha testato con successo un missile agitata nucleare che ha provocato un forte terremoto del quinto grado della scala Richter e che si è sentito nella penisola di Seoul. Il sisma ha registrato, secondo le rivelazioni, alle fattibilità delle teste nucleare che è stato fatto per celebrare il 68esimo anniversario della nascita della Repubblica Democratica di Corea. Lo sviluppo delle armi atomiche da parte dei nordcoreani costituisce una grave minaccia per il Giappone, ha detto il premier nipponico Shinzo Abe. Ci saranno gravi conseguenze, ha fatto sapere la Casa Bianca tramite il portavoce del presidente americano Barack Obama e tra l'altro una reazione durissima è arrivata inaspettatamente anche dalla Cina che è stato storico alleato dei nordcoreani. Una nota diffusa dal Ministero degli Esteri si condanna il test e invita la Corea del Nord a rispettare il trattato di non proliferazione.